Impegno infrasettimanale di Coppa Italia per la Nissa che domani, mercoledì 27, affronterà l'Akragas al campo sportivo Palmintelli di Viale della Regione per l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli. Fischio d'inizio alle ore 15.30. I biancoscudati sperano di aggiudicarsi la gara di andata degli ottavi di finale della fase regionale di Coppa per giocarsi con serenità l'accesso ai quarti nella partita di ritorno in programma mercoledì 12 ottobre all'Esseneto di Agrigento. Attraverso la pagina Facebook la società nissena ha già reso noti i prezzi dei biglietti. Tribuna coperta 10 euro, tribuna scoperta 7, gradinata riservata al settore ospiti 10, prezzi ridotti per gli spettatori dai 13 ai 18 anni e over 70, ingresso gratuito fino ai 12 anni. Intanto si attende che la società ufficializzi il nome del nuovo allenatore dopo l'esonero di Alessandro Settineri, maturato dopo le prime tre partite di campionato. In merito al nuovo tecnico, negli ambienti calcistici cittadini, circola con esistenza il nome di Alessio Sferrazza, già alla guida dell'Atletico Nissa e in passato dello Sport Club Nissa. La scelta potrebbe essere ufficializzata prima della gara casalinga di domenica contro la Parmonval. Tornando alla partita con l'Acragas, indisponibile Mattia Retucci, i tempi del recupero fisico oscillerebbero tra le tre e le quattro settimane. Il quadro completo delle partite di Coppa Italia Taormina Leonzio, Comiso Modica, Enna Don Carlo Misilmeri, Nissa Acragas, Rocca Quedolcese, Nuova Igea, Mazzarese Sciacca, Palazzolo Siracusa, Resuttana San Lorenzo, Parmonval.